Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi 4 mollette e tanta fantasia per l'alberello di Natale più bello che ci sia. Ed ecco l'occorrente per il nostro alberello presepe. 4 mollette, una stellina di fommi glitterato o di carta glitterata, un pezzettino di cartoncino nero, un paio di forbicine, della carta velina e dei pennarelli colorati. Iniziamo subito. Come prima cosa, in un cartoncino bianco, disegniamo una natività in negativo. Se voi non la sapete dipingere o non la volete dipingere, scaricatevela direttamente da internet. Basta cercare Sagoma Natività e usciranno un sacco di natività. Prendete quella che vi piace di più e stampatela su carta da fotocopia. Dopo averla disegnata, ritagliamola. Ritagliata la nostra natività, la mettiamo da parte. Adesso prendiamo i due fogli di carta velina. Adesso, con dei colori, coloro gli spazi in maniera tutta diversa. Io sto sovrapponendo due fogli di carta velina, sperando di colorare entrambi i fogli. Lo scoprirò solo alla fine. Una volta fatti tutti i settori, prendo una penna permanente e, tra un settore e l'altro, separo con un passaggio con il righello, in nero. A questo punto, apriamo le nostre mollette. E adesso, prendiamola con la caldo e uniamo la molletta, prima da qui, nella testolina. Quindi, un punto di colla e uniamo questi due. e poi uniamo le altre due. Uniamo queste due in questo modo e congiungiamo la base. Una volta disegnati gli sfondi e ripassati tutti, con un po' di colla sporco i margini del mio presepe, solamente quelli più interni, e appoggio sullo sfondo, così. E dall'esterno, con un tagliabalza, elimino l'eccesso. E già così è carino, come alberello di Natale, ma noi, adesso, sul retro, attacchiamo la nostra natività. Rimettiamo la colla sul bordo della velina e a mo' di sandwich vedete, facciamo combaciare le figure. Voilà. E lo rigiriamo. fatto questo, tagliamo di nuovo l'eccesso, giriamo dall'altra parte e all'apice incolliamo la stellina. Del tutto facoltativo, con un pennarello acrilico verde, ripassiamo su tutta la cornicetta esterna. E voilà. Il nostro alberello di Natale, ultimo minuto, è pronto. Ma questo non è soltanto un alberello, questo è un alberello con un presepe nascosto che viene fuori solo di sera, quando dietro adageremo una piccola lampadina. Vi faccio vedere. Ed ecco qua il nostro presepe illuminato. di giorno albero, di notte presente, ma sempre con noi, la magia del Natale low cost. Bene, io vi ringrazio per essere stati con me fino a questo momento. Vi lascio alle foto e noi ci rivediamo al prossimo video e mi raccomando lascia per un pollice in su. A Natale siamo tutti più buoni! Grazie.